Il fischio d'inizio viene dato proprio in questo istante Trova il gol Cogliati per la formazione del Milan Quindi due atti al centro, non riesce a controllarla l'estremo difensore del Perugia Che poi devia la prima volta Cogliati può accentrarsi, va alla conclusione un assist sul secondo palo per il numero 14 della Vedova